Ciao a BetTaste! Non mi è piaciuto per niente The Return di Uberto Pasolini nella sezione Gran Pubblica della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Lui è il grande produttore di Full Monty, ma per me soprattutto è il grandissimo regista di Mascian, i cingalesi che cercavano di fotterci andando a far finta di giocare a palla a mano, che divertente è uno di quei film che rientra anche nel filone che io adoro dello sport impossibile, fatto anche da Taika Waititi, da un grande documentario, e quindi gli atleti le pippe, quelli che perdono 50-0, come facevano i giocatori di palla a mano cingalesi esilaranti di Mascian, ma volevano telare come in fuga per la vittoria di John Huston, volevano scappare e usarono quello tratto da una storia vera. Il suo esordio stupendo, presentato alle giornate degli autori a Venezia, poi Still Life, che volete che vi dica, ancora oggi piangiamo, e Nowhere Special, non ci sono i registi che si eccitano per i gangster, per i criminali, che filmano i criminali con la saliva, con la salivazione accentuata e con questo desiderio, questa attrazione. Io preferisco i registi che filmano un lavavetri, eccitandosi, filmando un lavavetri. Ecco, questo era Nowhere Special, un grandissimo film di impianto ideologico, dalle parti appunto del nostro amatissimo Ken Loach, e quindi non capisco che gli è successo con The Return, perché è un film patinato, piuttosto ridicolo, sull'odissea e sul fatto che con un cast completamente sbagliato, è patinato e fasullo e che non appartiene affatto al suo cinema, che è un cinema appunto di umili, ripresi con grande dignità, no? La grande tradizione di Vittorio De Sica, la grande tradizione di Ken Loach, la grande tradizione di Roberto Rossellini, non di quelli che sbavano per i gangster. E qua invece lui non sbava nemmeno perché Uberto Pasolini non sbava per Ulisse, e anche questo è un problema, perché allora Fai Troi di Wolf and Peterson, che è più smaccato, che è più sbaccato, che è più kitsch e che è più coerente ideologicamente ed è più elegante come approccio al cinema. Qui è un film ridicolo dove c'è Ulisse che torna, che Ralph Fiennes, nessuno lo riconosce, voi direte sì, ma è Omero, e ho capito, ma il cinema non è Omero. E quindi tu devi mettere un incantesimo, tu devi usare il fantasy da cui vieni, da cui viene come origine letteraria, e quindi assolutamente devi mettere qualcosa che Omero può omettere, e cioè la magia, perché il riconoscimento facciale in un'arte volgare, smaccata e plateale e evidente e fotorealistica come il cinema è un obbligo per noi spettatori, siamo già obbligati a non credere al fatto che non lo riconoscano, perché poi questo torna e manco c'ha la barba lunga così, manco c'ha i capelli lunghi così, no, è assolutamente, e allora tu devi mettere un incantesimo. Bastava aggiungere in sceneggiatura, si sono distratti e dire che erano 2000, John Cully, Edward Bond e Uberto Pasolini in sceneggiatura, bastava dire che tra Ocalipso o qualcun altro aveva fatto un incantesimo. Torna questo che è uguale a come era prima, nessuno lo riconosce, è già noi pubblico del 24 diciamo no, lo riconosce Argo che poi schiatta, come sapete, ed è tutto patinato, ed è tutto con una fotografia che ho trovato molto 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 irritante per i miei gusti, troppo morbida, troppo laccata, troppo 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 Ridley Scott quando non c'era assolutamente bisogno di farlo, perché allora devi essere turgido e devi essere anche proprio fracassone come è il grande regista inglese hollywoodiano Ridley Scott. Invece Pasolini si perde completamente, lui che viene da un cinema molto rigoroso e veramente anche dell'umiltà e della povertà di mezzi che però crea un cinema secondo me immense e di grande potenza. Questo è un film debolissimo nonostante sia un film con Ralph Fiennes che fa Ulisse, Giulia Binoche che fa Penelope, Claudio Santamaria che fa Eumeo, il Capraio, e sembra un po' una barzelletta il film perché sembra un attore scespiliano inglese bravo che fa Ulisse, infatti è così, sembra una francese che fa Penelope, infatti è così, sembra uno svedese che fa Telemago perché Charlie Plummer sembra proprio svedese, sembra uscito da Midsommar, sembra uscito da un film di Ruben Ostlund, non c'entra niente Telemago praticamente appunto dalle parti di Stoccolma e poi sembra che c'è un italiano che fa il Capraio, infatti è Santamaria italiano e no, anche questo è completamente sbagliato rispetto anche a questi casting fantastici che mi piacciono da morire con tutti i neri, black, asiatici dentro Dickens o dentro anche Tolkien come la mia amatissima Disa, degli annelli del potere, lì ha un senso politico legato alla cultura woke e inclusiva e qui invece è solo un euro padding, è solo una produzione internazionale dove ci siamo anche noi italiani che è molto poco legata e quindi è un film per me abbastanza fallimentare. Anche perché Pasolini filma con una grande seriosità il ritorno di Ulisse a Itaga, Penelope fa e disfa la tela, Antino sembra tunisino perché c'è questo bellissimo attore, non qui. Olandese, Kefke, di origini tunisine, che è Fantino, che è Marwan Kenzari, che sembra che non gliene freghi niente, invece è quello più motivato dei proci, come sapete, a prendere Penelope. La storia la conosciamo e questo anche non aiuta perché va avanti tutto molto macchinosamente e senza alcun tipo di nerbo e senza alcun tipo... e poi Pasolini filma però le scene di forza e le scene di enfasi della potenza di Ulisse sia combattimenti che la famosa scena dell'arco con le teste d'ascia, la precisione e la forza e l'intelligenza di Ulisse e le filma con anche una grande attenzione al dettaglio corporeo perché il corpo di Fainz è inquadrato e a Fainz è stato richiesto di metterli sui muscoli, quindi anche questo non l'ho capito perché è appunto è un vorrei ma non posso, è un andare verso Scott Peterson e quindi fare anche un po' di pacottiglia sandaloni peplum ma poi con però un contegno che a quel punto lascia il film in mezzo a una strada perché allora spingi sul kitsch, ripeto preferisco Troy, preferisco Peter Brad Pitt che fa Achille vabbè ci siamo capiti, nettamente lo preferisco rispetto appunto a questa roba qua che è completamente persa in una via di mezzo quindi proprio non è arrivato a Itaca, è affondato secondo me Ulisse c'è gente appunto slava pure, russi, gente che sembra russa che protesta e non mi piace come è filmata Itaca, non mi piace come sono filmati gli interni che è uno poi non mi piace come sono filmati gli esterni che queste rocce scoscese non mi piace l'accampamento dei proci, non mi piace niente, non mi piace Ralph Fainz nonostante reciti a volte anche Benino e non mi piace affatto questa cosa del non riconoscimento che ripeto al cinema la devi risolvere, la devi risolvere con una battuta, con una magia o con un make up devi fare in modo che quello che torna non può, deve essere credibile che non venga riconosciuto torniamo alle lancinanti sempre e però importantissime differenze tra testo astratto di caratteri che noi leggiamo sono parole e che immaginiamo e questa cosa così volgare che è l'immagine in movimento come anche io che vabbè a parte la volgarità dei miei contenuti ma proprio è lampante, eccolo qua e quindi è già volgarità, è già evidenza, è già dire è già mancanza di sottigliezza, è già mancanza soprattutto di astrazione è qualcosa di più, proprio in quanto di natura fotorealistica, è qualcosa di più concreto e quindi nella nostra testa ci scattano 1400 meccanismi che ti fanno dire non credo che non riconoscano Ulisse The Return, Uberto Pasolini, il ritorno di Uberto Pasolini alla regia Nowhere Special me l'ha piaciuto da morire, visto Venezia fuori concorso questo qua visto alla festa del cinema di Roma, 19esima edizione fuori concorso non mi è piaciuto per niente, non è proprio il suo cinema è proprio rispetto a Machin, Still Life e Nowhere Special non c'entra niente va benissimo, ci mancherebbe però spero che torni a fare quei bellissimi film che faceva prima ciao, betteis!